Oh buonasera, buonasera! Allora ci troviamo in un posto che sarebbe la strada statale 260 DIR, cioè praticamente la deviazione che porta da Capitignano al Passo delle Capannelle. Il luogo in cui i motociclisti si divertono a fare queste curve è qui c'è la chiesetta alpina, la chiesetta alpina è una bellissima chiesetta che si trova in questa ladura che adesso andiamo a visitare da fuori perché attualmente è chiusa, cioè attualmente, insomma in questo momento che ci sono arrivato io è chiusa, ma se no è agibile insomma, il raggio di sole ce la sta facendo desiderare, ma finalmente arriviamo e eccola qui, eccola qui con la sua porta azzurra, la corona di fiori ormai secchi, il crocefisso e la targa ai cittadini comuni di Capitignano in ricordo dei loro caduti. questa targa posta qui sopra la porta nel 1988 e questi sono gli alpini di Capitignano caduti.